Passiamo la vita a combattere contro noi stessi per cercare di essere migliori. Ma siamo quello che siamo. Sono vent'anni che i padroni sversano in fiume come fosse una discarica. Quali padroni? Questi sono bracconieri, gente dell'Est. Questa è la mia famiglia. Vi stanno cercando. Mi fermate due o tre settimane. Non volevo uccidere nessuno io. Stiamo andando a prenderlo. Vogliamo fare la guerra? Dobbiamo aver paura a casa nostra. State giù! Ma che cazzo sei? Voglio andare via. Dimmi dov'è. Non so che sono ingani nessuno io. Non so vittorio di nessuno! M Viva! No! Viva! Viva! Grazie per la visione!